Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Ruby e sono qui per parlarvi di John Green Recentemente ho finito l'ultimo romanzo Cercando Alaska e quindi voglio darvi un mio parere personale sui romanzi di John Green e che cosa io ne pensi come scrittore, come tutto So benissimo che io non sono più young ma sono più adult Infatti molti di voi diranno ma questo qua cosa sta parlando di young adult se c'ha quasi 30 anni però voglio dire si può parlare anche di matrimonio senza essere sposati si può parlare di figli anche senza essere genitori si può parlare di gravidanza senza essere donne quindi voglio dire io posso dare la mia personalissima opinione su questo Allora quali sono i romanzi di John Green? Io ne ho qua due, c'è Città di Carta e Will Ti Presento Will e gli altri sono Teorema Catherine, Cercando Alaska e Colpa delle Stelle Questi due li ho dati via, Cercando a Colpa delle Stelle li ho dati via su Bookmooch che poi vabbè mi sono tolto perché Samperd e Teorema Catherine l'ho venduto a libraccio mentre Cercando Alaska l'ho comprato in ebook perché ho detto, visto i precedenti Allora John Green usa lo stesso stile per tutti i romanzi ovvero tutti i romanzi sono scritti in prima persona non c'è un romanzo scritto in terza persona e questo secondo me è un peccato perché alcuni personaggi, alcune situazioni potevano essere approfondite se questo veniva scritto in terza persona Io non sono un fan, l'ho già detto, lo ripeto all'infinito della scrittura in prima persona perché tende a trascurare alcuni aspetti della narrazione tipo alcuni personaggi, alcune cose anche molte volte le descrizioni, eccetera quindi non sono un fan particolare di questo penso che in John Green la scrittura in terza persona poteva aiutare molto in quanto, soprattutto in Colpa delle Stelle dove alcuni personaggi come Van Houten e come Isaac potevano essere meglio approfonditi in un contesto di terza persona non vengono assolutamente approfonditi ma questo è un altro difetto di John Green che poi vi andò a dire allora, John Green usa tantissimo le anafore questo l'ho visto soprattutto in Città di Carta e in Cercando Alaska in Colpa delle Stelle non mi ricordo se c'è, mi sembra di sì in teorema Catherine non l'ho neanche vista perché non sono arrivato neanche al 40% del libro cioè dopo la trentesima pagina l'ho chiuso perché veramente, dopo vi dirò vabbè, usa le anafore che cos'è l'anafora? l'anafora è quella figurare tattorica dove c'è la ripetizione di un qualcosa tipo quella, la famosa è quella di Dante per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra le perduta gente e lui usa la stessa cosa per esempio in Cercando Alaska mi ricordo che quando lui vuole dire che il personaggio pensa più cose nello stesso momento dice io pensavo questo pensavo quello pensavo quello pensavo quello e voi potete capire che all'interno di una scrittura te la potevi anche risparmiare un'altra cosa che usa sono gli elenchi per esempio Quentin era è un personaggio deficiente per dire perché uno è così due è così tre è così allora voi capite che comunque questo elenco ci può stare in un discorso diretto io vi sto dicendo che lui è così perché uno, due, tre eccetera perché magari nella mia testa bacata ho uno schema e quindi mi è più facile ricordare le cose ma nella scrittura si può usare i due punti e poi le virgole voglio dire non è che c'è buon genio e quindi anche lì cose veramente stilistiche e poi usa veramente delle metafore che insomma lasciano il tempo che trovano ma questo poi lo vedremo dopo i personaggi i personaggi sono stereotipati i personaggi sono sono appunto stereotipati al limite del ridicolo non la povera Isley Grace poverina che c'ha il cancro ma gli altri tre personaggi maschili che sono Quentin che sono Ciccio e l'altro di Teorema Catherine che non mi ricordo come si chiama sono veramente degli sfigati cronici patentati che hanno delle difficoltà a rapportarsi con l'altro sesso che hanno degli amici ancora più sfigati di loro e che insomma hanno delle problematiche di tipo relazionali eccetera allora io se avessi 16 anni torniamo indietro nel tempo e avessi letto questi romanzi tutti i romanzi di John Green vi avrei detto che io come 16 anni non mi riconoscerei in nessuno di questi perché è vero che magari ci può stare il il ragazzo magari che ha problemi con le ragazze che ha problemi ad affarsi degli amici eccetera però questo è veramente troppo troppo esagerato al limite tipo in Teorema Catherine dove c'è sto qui che viene lasciato da 17 donne chiamate Catherine e questo c'ha solo 16 17 anni rendiamoci conto che praticamente mette sull'ascisse sull'ordinata che è il piano cartesiano ecco lo XY tanto per la durata della della relazione e il numero dell'intensità dell'amore con cui ho la durata dell'ascito cioè voi potete capire che neanche il più nerd del nerd o il più secchione dei secchioni per usare un termine gergale e non usare un termine offensivo quindi non è che sto offendendo magari le persone che studiano molto anzi beate loro se no se no dovete fa sta fine mia come a fine mia comunque 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 cosa volevo dirvi che mi sono ah ecco cioè chi è che si metterebbe lì a fare un un coso un piano sull'amore a dire che l'amore è una cosa matematica ma nessuno ma questo neanche in bing bing theory può fare una cosa del genere e questa secondo me è la grande pecca di John Green cioè lui voleva avvicinarsi ai giovani però l'ha fatto in una maniera alquanto sbagliata io penso che se una persona deve scrivere un qualsiasi cosa che sia uno young adult che sia un trattato di filosofia che sia un libro sulla fisica quantistica almeno si deve un po' documentare e deve un po' capire cos'è quell'argomento in cui va a trattare no il caro John Green scrive senza condizione di causa lui voleva fare un qualcosa che si avvicinasse ai giovani ma secondo me oggi come oggi è totalmente lontano da questo poi un'altra cosa che che veramente l'ho trovata alquanto ridicola è la mancanza del realismo e di situazioni realistiche allora io penso che ogni genere letterario si avvicina o si discosti meno a quello che è la realtà è ovvio che se io parlo di fantasy il fantasy si distacca totalmente dal reale perché nella realtà noi non abbiamo draghi non abbiamo streghe non abbiamo bacchette magiche magari se mi desse la bea bacchetta magica faccio una strage però quando stiamo parlando comunque di young adult o comunque di romanzi rivolti a dei giovani o che trattino delle tematiche importanti anche perché poi è capitato che ci siano dei romanzi che trattano delle tematiche molto più forti di quelle che tratta John Green che sono solamente l'amore all'entrarne le mutandine della tizia e il nerdismo cosa stavo dicendo mi sono perdono ah ecco il realismo ci deve essere un minimo di realismo cosa che manca totalmente in John Green allora per quale motivo e perché allora voi trovate un giovane di 16 anni che usa le metafore che usa cioè le stesse metafore che usa Ciccio di Cercando Alaska cioè voi trovate uno di dai 14 15 anni ai 20 che usa l'espressione il cielo è ubriaco di stelle ma questo non lo userebbe neanche il pronipote di Platone se esistesse cioè voglio dire non è credibile che un giovane di 16 anni usi quelle espressioni lì ma magari le posa le espressioni solo se deve fa colpo ma non nella vita di tutti i giorni poi questo qui poi sto protagonista che si memorizza le ultime le frasi dei personaggi famosi prima di schiattare scusate ma chi è che ha questa passione cioè al massimo ti vai che ne so ti memorizzi i testi delle canzoni al massimo ti memorizzi le cose della che ne so il numero delle pagine di un libro se proprio vuole fare una stranezza ma chi che si mette ad andare lì a vedere che tizio prima di morire ha detto sto per espirare cioè ma non è realistica come cosa cioè voglio dire un giovane di 16 anni oggi come oggi va bene intrippato nella tecnologia ecco appunto intrippato nella tecnologia magari poteva memorizzare le app magari poteva avere che ne so una passione per i videogiochi sì questa cosa rientra in cercando alaska però comunque è veramente molto sottile cioè per esempio è una persona che si interessa di computer di tecnologia ma non una che fa ste robe e che usa frasi il tuo seno era come delle pesche mature a maggio durante il mese durante il mese dove maturano le pesche ma chi ma chi userebbe queste cose poi altre situazioni se vabbè sia in cercando alaska che in città di carta città di carta per esempio c'è cesto qui che per far colpo sulla squinza di turno prende la macchina e gira per tutta l'america per andarla a cercare cioè voglio dire ma uno di 16 anni si potrebbe permettere di fare una questa cosa oggi cioè voglio dire in america si prendono la patente a 16 anni cioè voglio dire o sono tutti dei ricconi o non lo so perché voglio dire uno ha anche un americano diciamo tra virgolette meglio un ragazzo americano di 16 anni penso che o è il figlio di una persona con dei soldi o penso che non si potrebbe permettere di andarsene in giro così per di qua e di là per l'america andare a cerca statizia cioè non è credibile cioè questi romanzi descrivono queste situazioni che appaiono fighe ma non sono credibili cioè voglio dire nel momento in cui lui lui cerca Alaska cioè ma ma no ma anche sta qui ma dove va poi anche lei che va a fare infrazione nelle case così fare come si chiama aspetta violazione di domicilio nelle case dove in america vivono in steville con tutte le cose lì ma chi ma dove ma perché andare a prendere le cose a mettere i pesci morti di qua cioè ma un po' di realismo un po' di credibilità ma chi è che farebbe una cosa del genere poi cioè al massimo oggi come oggi ti vado a sputtanare su facebook di certo non entro in casa tua a metterti i pesci morti cioè anche lì poi anche anche in teorema Catherine cioè allora questo qui c'ha 16-17 anni ed è stato lasciato da 17 Catherine cioè ma sto qua si è fidanzato nell'utero materno cioè da quando ero un feto si è fidanzato ma chi ma che cosa cioè avesse 30 anni dove poi la protagonista muore cosa succede i due arrivano a una conclusione sulla vita e sulla morte su quello che è successo che non ci arriverai neanche io che ho 30 anni cioè io non sto dicendo che i sedicenni sono tutti dei celebrolesi che pensano solo al sesso e pensano solamente ad accoppiarsi ma per l'amor di dio cioè non bisogna fare di ogni insieme cioè di ogni erba un fascio in un insieme c'è la persona così e c'è la persona cos'ha ma per l'amor di dio però per le per le tematiche per quello che riescono poi ad arrivare successivamente è una cosa altamente impossibile per una persona di sé ma anche una persona di 16 anni oggi come oggi che è matura con la testa sulle spalle non ci arriverebbe mai ma non ci arrivo neanche io che ho 30 anni un'altra cosa è che questi giovani sono totalmente abbandonati a se stessi cioè sembrano essere tutti orfani non hanno una famiglia se ce l'hanno se ne sbatte altamente non hanno delle autorità scolastiche vivono in queste scuole dove vanno entrano prendono vanno al mcdonald vanno di qua vanno di là fumano nei bagni non vengono neanche puniti niente cioè sono totalmente abbandonati a se stessi cosa che secondo me questo aspetto è altamente diseducativo perché soprattutto per una persona che ha 14-15 anni delle regole sono importanti a mio avviso allora io non è che sto dicendo che John Green doveva dire che questi qua vivono cioè frequentavano delle scuole tipo che ne so religiose piuttosto che dei licei dove la preside era la Rottermaia ma per l'amor di Dio però cazzo un po' anche lì un po' di realismo cioè le scuole non vengono assolutamente descritte non si sa cioè vanno a scuola sappiamo che vanno a scuola appunto poi non fanno neanche lezione loro commettono un'infrazione all'interno della scuola non vengono assolutamente puniti assolutamente cioè nessuno si accorge di niente esempio largo anche lì la figlia sparisce per la seconda volta allora al posto di preoccuparsi al posto di dire mamma mia cosa sta succedendo mia figlia perché se n'è andata per quale motivo potrebbe essere nelle mani del serial killer più ricercato d'America se ne sbattono le altamente perché dicono vabbè l'ha fatto una volta è tornata adesso ritornerà ancora ma che cavolo di ragionamento è ragazzi ma da un genitore cioè a voi vi sparisce la figlia e voi dite eh vabbè ma tanto tornerà ma chi farebbe una cosa del genere poi anche lì il poliziotto il detective anche lui eh ma se il genitore ha detto che un giorno ritorna ritornerà ma anche lì ma scusami ma indaga per quale motivo no assolutamente no quindi questi giovani sono totalmente manca totalmente cioè è come dire sì vabbè se cresci stai allo sbando da te stesso e ciao no ma per quale motivo perché ovvio che il genitore non è che deve essere deve essere oppressivo piuttosto che me ne freghista ed ovvio che non è un serio dialogo non ho visto neanche una preoccupazione da parte di questi giovani cioè da da questi genitori come nel caso della madre di Catherine la madre di di quello del teorema Catherine non so neanche se esista perché vi ho detto che non l'ho neanche non l'ho neanche finito quindi sti genitori di qua e poi la costante del dell'ubriacarsi del bere del fumare eccetera eccetera quindi io penso tirando le somme che John Green voleva scrivere degli young adult ce l'ha fatta perché il libro che ha avuto più grande successo è stato colpa delle stelle dal quale è stato trattato anche un film io penso che colpa delle stelle sia uno di quei romanzi sopravvalutato che il suo successo è stato veramente troppo eccessivo perché lui usa una componente fondamentale che è quella del che è quella del cancro per tirarci su dei soldi io trovo che il romanzo sia a tratti anche offensivo perché usa delle terminologie mediche e farmaceutiche che non so se esistano cioè io non so se effettivamente questi farmaci esistano se nel caso se li fosse inventati la cosa è veramente molto grave a mio avviso quindi che poi anche lì il tema del cancro è un tema che è stato messo lì così tanto per cioè i due protagonisti non si innamorano perché hanno la stessa malattia hanno fatto lo stesso percorso no loro si innamorano così anche lì nel senso i due non è che si mettono lì a parlare a confrontarsi magari ci unisce il fatto che abbiamo tutti e due questa malattia no assolutamente loro si mettono lì per e questa è un'altra componente che mi sono dimenticato di dire di John Green ovvero che tutta la narrazione tutte le cose girano intorno a questi due protagonisti che siano Ezel Grace e che siano e che sia Augustus o Gas che sia Quentin o Margo e che sia Ciccio e che sia Alaska cioè tutto il tutto il resto fuori è noia nel senso che tutti gli altri tutti gli altri personaggi tutte le altre situazioni sembrano essere messe in secondo piano perché l'importante sono loro due allora nel caso di per esempio colpa delle stelle il Isaac per dire che era il personaggio più più decente del libro poteva essere minimamente approfondito anche come Van Houten poteva essere approfondito invece no perché tutto deve girare intorno a questi due pianeti e tutto il resto gira intorno è tutto un girare di robe sferiche quindi e secondo me è un peccato perché voglio dire il personaggio secondario non vuol dire che è un personaggio secondario perché deve fare contorno e ciao è un personaggio secondario che però anche lui una storia anche lui un approfondimento anche lui uno spessore invece no perché tutti tutti i personaggi secondari di John Green sono lì messi lì basta perché devono far contorno no invece no e ha detto ciao buttiamoci sopra adesso io non so in ordine cronologico come siano usciti però io dico così vabbè poi ci ha provato con cercando cercando Alaska anche lì il romanzo mi è piaciuto di più di Città di Carta però sinceramente come vi ho detto prima per il filosofeggiare e per le tematiche a cui arrivano i giovani è veramente poco credibile Città di Carta poi è stata una emerita ciofeca ma mai come Teorema Catherine Teorema Catherine penso che sia stato il peggior libro che io abbia mai letto ma non solo io io sono andata a vedere anche le recensioni su Anobi e dicono tutti quanti la stessa cosa quindi o siamo deficienti in 50 o non lo so è stato ovviamente il peggior l'unico che veramente mi è piaciocchiato mi è piaciuto e penso che se John Green avesse usato quello stesso filone magari quello stesso filone per gli altri libri magari non avrei detto che è uno scrittore mediocre e che non sa neanche di che cosa sta scrivendo è Will ti presento Will che affronta il tema dell'omosessualità fortunatamente lì non ci sono giovani che hanno complessi che hanno delle famiglie disagiate che hanno problemi di accettazione che sono mezze checche eccetera eccetera sono delle persone normalissime soprattutto il personaggio di Tini che che fa una che fa quello che si sente cioè lui è così e e fa fa quello che si sente cioè lui non si fa delle problematiche sul ma la gente potrebbe pensare la gente potrebbe dire no lui sarà se stesso è se stesso per tutto il libro ed è questa veramente la la cosa che mi ha stupito perché ho detto ma si questo parla parla di gay figurati se si mette lì a fa a di la mezza checca piuttosto che perché il il i film e i libri a tematica queer io li evito molto formalmente perché cadono sempre i soliti cliché eccetera però devo dire che Will T present Will in collaborazione con cioè in collaborazione sì scritto a quattro mani con David Hamilton è veramente leggermente superiore agli altri e se Green avesse usato la stessa la stessa lo stesso filone per tutti gli altri libri ovvero che non usava delle iperbole usava delle cose più credibili e usava comunque dei personaggi come il come in Will T present Will magari avrebbe fatto qualcosa di decente invece no per esempio c'è una frase che a me piace molto che dice forse c'è qualcosa che avete paura di dire o qualcuno che avete paura di amare o un posto in cui avete paura di andare farà male farà male perché è importante e questa è veramente una bella frase cioè dimostra tante cose e niente è un libro che io l'unico è che vi consiglio di leggere anche perché è comunque una lettura leggera è molto carino fa anche ridere non fa ridere perché è ridicolo ma perché ci sono anche delle situazioni e niente questo questo è in conclusione John Green ha scritto romanzi per per teenager senza neanche sapere di che cosa stesse scrivendo ha fatto un lavoro a mio parere altamente mediocre perché questi questi romanzi sono romanzi che uno si può leggere d'estate sotto l'ombrellone con 40 gradi all'ombra però non ti lasciano granché niente ecco descrivono come vi ho detto a situazioni assurde e quant'altro bene questo è il mio è il mio parere anche perché John Green quanti anni ha forse più verne di me non c'è scritto quanti anni ha John se non verne deve essere il 74 se non sbaglio boh no qua non c'è scritto non c'è scritto l'età l'età di Green non c'è scritto è ignota no è il premiato tutorial di romanzi metta le classifiche no non c'è vabbè questo è quanto io ho finito fatemi sapere se questi romanzi li avete letti se non li avete letti se vi sono piaciuti se non vi sono piaciuti quale avete preferito quale non avete preferito eccetera io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao